Ben Affleck in generazione XJ OHN le guizziamo il Romeo più Giulietta Jeremy Davies in Twister Brian Van. Old in S, W, A, T, squadra speciale anti-criminé Don Cain in best men amici per la pelle Dominic Purcellin. Equilibrium Mike Real by la regola del sospetto Tim Guiné in il coraggio della veritabili RIEC. INI nell'Alex Desert in Swingers Leon Lai Ming in Angeli Perduti Jason London in Carrier 2. La Furia Jason Connery in pallottole Cinesi Simon Lindon in Blackrock Tontili in una maledetta occasione Noah Antlin 28 giorni dopo.